Giustamente c'è preoccupazione, però non è un virus che colpisce l'uomo. Cos'è avvenuto? Che sono stati controllati degli alimenti di origine animale delle carni in depositi e in ristoranti. La carne, positiva al virus della peste suina africana, sequestrata durante i controlli messi in campo a febbraio dai carabinieri del NAS, insieme al Siena e al servizio veterinario dell'USL 6 Ugan, era destinata ad alcuni ristoranti etnici a Padova. Il patogeno è stato riscontrato in alcuni prodotti lavorati, come le salsicce. Anche se non è pericoloso per l'uomo, bisogna sempre prestare attenzione alla provenienza degli alimenti. È importantissimo leggere l'etichetta, oppure nelle carni fresche non c'è un'etichetta completa, però è sempre indicata l'origine della carne, oppure dove è stato allevato e macellato l'animale. Bisogna evitare che il virus, che si trasmette tra i suidi, entri in contatto con altri animali selvatici o domestici e che arrivi agli allevamenti. Se ciò avvenisse, avrebbe gravi conseguenze per la produzione e l'export di carni. Ci sono delle stime per cui si ridurrebbe il PIL anche del 4-5% se fossero bloccate le esportazioni di prodotti a base di carne suina, in particolare i prosciutti crudi. Allora, per quanto riguarda gli animali, noi abbiamo una forte attenzione per i cinghiali, quindi i primi selvatici che potrebbero essere interessati. Focolai tra i cinghiali sono stati riscontrati in Lazio, Liguria e Piemonte, ma non in Veneto, quindi bisogna fare molta attenzione. Quando si va in campagna per un picnic, evitare di lasciare rifiuti incustoditi, perché potrebbero attirare selvatici. Nel caso remoto ci fosse il virus della peste suina africana, questo contaminerebbe i selvatici e sarebbe occasione di diffusione del virus. Il virus è molto resistente, per cui può rimanere nel terreno, nell'ambiente anche per giorni e settimane.